signora buongiorno da qui quest'anno fa freddo però è fatto bene per l'inverno il mare che ha preso l'anno scorso sacrifici che faccio sono ripagato beh senza sacrifici mettiamoci in testa che non c'è da niente nessuno quello no anche perché lei viene da dove da tricoria un'ora e mezza che vuole ancora parte la mattina la mattina il primo mentre 5 e mezza va bene guardi che bella la pila laggiù guardi rossa